Volkswagen Tiguan Life Edition, disponibile qui da Romano Auto. Restate con noi e occhio alle immagini. La Tiguan è un SUV medio di casa tedesca, con linee semplici e minimali, elegante, pratica e abbastanza spaziosa. Il motore è un 2000 diesel da 122 CV di ultima generazione, con dei consumi molto contenuti. La plancia presenta uno schermo multimediale touchscreen ricco di informazioni, con il Polcar e Android Auto. Ottima anche la capienza del baule, di ben 615 litri. Silenziosa e sicura alla guida, la Tiguan se la cava benissimo anche in fuoristrada. Venite a scoprirla, siamo in via Pomigliano, Sant'Anastasia, Napoli. E ricordate, Romano Auto è la scelta giusta.